Torna il premio elettorario internazionale L'Aquila Biper, intitolato all'audomia Bonanni, giunto alla sua 22esima edizione. Biper Banca ha una mission ben precisa, considera la cultura come un canale di crescita importante e dunque continua a sostenere questo premio che ha raggiunto una valenza internazionale e sempre più prestigiosa negli anni. Questo è un evento internazionale che abbraccia la cultura, la cultura in un'espressione importante quale quella della poesia. Biper Banca è a fianco di questo evento perché nel core di Biper Banca, a parte l'attività ordinaria, c'è anche questa vicinanza al mondo della cultura in tutte le sue espressioni. Un'edizione particolare questa che segna anche il ritorno all'interno del carcere delle Costarelle con la sezione dedicata ai detenuti degli istituti penitenziali italiani. Di grande rilievo poi l'ospite e il poeta spagnolo Alfonso Brems. Quest'anno davvero un'edizione speciale, sia perché l'ospite d'onore è una grandissima personalità della poesia spagnola, un'eccellenza, e sia perché rientriamo nella casa circondariale di Costarelle dove riportiamo la poesia. Ricordiamo sempre che le carceri hanno una doppia funzione pena, ma anche riabilitazione e proposta di una nuova identità. Noi vogliamo lavorare su questo e abbiamo avuto un'accoglienza enorme da parte della direttrice, avevamo dovuto sospendere per la pandemia e per altri problemi, tipo la presenza dell'ospite che poi, ricordiamo tutti, è andato alle cronache nazionali e rientriamo alla grande. Il programma è molto ricco e articolato come sempre. Venerdì 10 novembre nel pomeriggio, il momento nel carcere, uno dei più emozionanti, con la poesia a tema libero e la presenza dell'ospite d'onore, mentre il giorno successivo all'auditorium del parco, la cerimonia di premiazione, l'incontro con i finalisti e con il vincitore della sezione Poesia Edita 2023. Grande spazio agli studenti come sempre. E in questo momento particolarmente triste e particolarmente difficile, ci rivolgiamo proprio alla bellezza per avere un po' più di speranza. Comunque la fondazione Cassa di Risparmio che io rappresento ha sempre dato un contributo importante a questo premio e continuerà a darlo e continuerà a favorire tutte le espressioni culturali della città e della provincia dell'Aquila.